Si è spenta a Roma dopo una lunga malattia Alba González, ballerina, cantante lirica e scultrice di fama internazionale. Aveva 85 anni, nata a Roma nel 1939, le sue origini erano un incrocio tutto mediterraneo. La madre è siciliana, con legami greci e spagnoli, il padre spagnolo con un ramo familiare francese. Prima diplomata all'Opera di Roma, poi cantante lirica, vincitrice di concorsi e ancora dopo un periodo di stasi aveva deciso di dedicarsi alla scultura. Tra i critici che l'apprezzano anche Vittorio Sgarbi, Enrico Crispolti, Giorgio Di Genova, Mario Lunetta, Alessandro Masi, fra i collezionisti Ennio Morricone, Nino Manfredi, Maurice Namami e poi ancora Roberto Wairt e Silvio Berlusconi. Quest'ultimo le commissionò per il Parco di Vida Certosa il Labirinto della Libertà, sette opere di cui sei sedili e una scultura monumentale centrale. Dal 1989 González raccoglieva in uno spazio espositivo interno e all'aperto a Freggene opere proprie di artisti italiani e stranieri nel cosiddetto Centro Internazionale di Scultura Contemporanea.